Un cordiale saluto a tutti voi, ben ritrovati, buon inizio settimana dalla redazione di Occhio la notizia di Fano TV, buongiorno siete sul canale 17 del Digitale Terrestre per seguire come sempre in diretta alle 7.45 la rassegna stampa, un'occhiata dunque ai giornali che faremo tra poco oggi c'è lo sport e lo sport che si occupa anche del Fano, Fano che ha vinto anche ieri il Derbissimo contro la Vispesero 1-0, telecronaca questa sera alle 20.45 dopo il nostro telegiornale dicevo diamo un'occhiata prima come facciamo di consueto al Santo del Giorno oggi tra gli altri Santi ricordiamo Santa Virginia Centurione Braccelli, il sole sorto alle 7.34 e il tremonterà alle 16.32 per oggi 15 dicembre avremo un cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne nella seconda parte di questa giornata, quindi nel pomeriggio non sono esclusi deboli e sparsi precipitazioni in particolare nelle zone interne settentrionali della regione quindi nella provincia di Pesaro e Urbino, le temperature sono in lieve diminuzione i venti di brezza tesa sud orientali lungo la costa e dai quadranti meridionali invece nell'interno mare poco mosso con moto ondoso in aumento poi per la giornata di domani vedete si affaccia anche la neve mista pioggia con precipitazioni deboli sparse nei settori interni con limite delle nevicate attorno ai 1500 metri in serata quando le temperature minime saranno in lieve diminuzione i venti sono di brezza tesa inizialmente meridionali ma poi vedete in rotazione da nord ovest dal pomeriggio e questo porterà appunto la sera temperature in diminuzione più fredde di conseguenza pioggia mista neve nell'entroterra per i prossimi giorni fino a mercoledì ancora instabile poi un miglioramento fino alla fine della settimana prossima dicevamo del calcio, dicevamo di questo fano di questa squadra che sta continuando a macinare risultati positivi sta infilando vittorie una dietro l'altra allora godiamoci questo momento vediamo cosa scrivono i giornali questa mattina sulla quindicesima giornata di Serie D la firma di Gucci sul derby 1-0 il risultato finale a Pesaro questo è un colpo d'occhio molto bello con i Panthers fanese nudo alla meta capitano Dari vedete in questa fotografia esulta con i tifosi alla fine della partita il centravanti incorna su angolo quindi Gucci in avvio di riprese fa crollare il castello difensivo della Vissa all'ottavo minuto del secondo tempo infatti Gucci segna un gol molto bello che potrete vedere questa sera in telecronaca integrale poi Alessandrini mentre esulta con il medico sociale Sanchioni Alessandrini raggiante questo è il DNA Delfano mentre l'allenatore della Vissa è sconfitto Bonvini dice rete viziata da uno o due falli in campo non si è vista la differenza di punti in realtà la Vissa Pesaro il primo tempo ha giocato tutto in difesa e quindi era difficile il primo tempo un po' così un po' noiosetto poi invece il secondo tempo qualcosina di più si è visto tutti e due avevano paura comunque di perdere ed è subito mercato l'alma ora si butta su Bianchi Canestrari dice il direttore sportivo sì Bianchi ci interessa la Vissa prende l'under e si profila uno svincolo di massa e Domenici va ad Urbania Gucci dice quel gol un'esplosione di gioia il fallo non me ne sono accorto e comunque non centro venivo da dietro Gucci entra negli annali Siville e Borrelli sempre temibili le pagelle la Briola miglior Vissino fino al gol il centrocampo non riesce a produrre gioco Bugaro con una marcia in meno andiamo sul sul corriere adriatico il Fano si gode il derby dei cent'anni un'incornata di Gucci condanna la Vissa al Benelli Granata al quinto successo consecutivo vedete qui alcuni momenti anche questo bel colpo di testa di Niccolò Gucci e poi sotto altri momenti altri momenti di questo bel derby e poi ancora bel colpo d'occhio e scambio di saluti con veleni e ironie tra i tifosi del Fano e ovviamente quelli della Vispesero lassù dice il presidente Gabellini si sta bene ma stiamo calmi il Fano dice Alessandrini ha dato una risposta di maturità il patron Gabellini il presidente siamo forti Bonvini invece all'Amaro due falli nell'episodio decisivo il tecnico della Vis non ricorda importanti interventi dei due portieri e contesta i 22 punti di differenza con i Granata in classifica chiudiamo con il messaggero Gucci griffa il derby il Fano piega la Vis ma primo tempo con i locali che riescono ad ingabbiare i più cotati cugini che sarebbero i fanesi ma poi bastano pochi minuti di pressing ad inizio della ripresa secondo tempo e di Granata vincono Domenici si scusa con i tifosi Bonvini accusa l'arbitro mentre Gabellini esulta noi giochiamo non giochiamo non giochiamo per arrivare quarti o quinti il che insomma lascia intendere che potremmo e si potrebbe sperare qualcosa di più e perché no tornare in Lega Pro la VL in basket invece sbanca Cremona Biancorossi più forti delle difficoltà Vittoria pesantissima anche senza Miles e la zona retrocessione ora è a meno 6 questo è il basket allora adesso andiamo a leggere invece le pagine interne con quello che c'è di cronaca e quello che c'è di politica allora andiamo sulla pagina del resto del Carlino ricorderete quella sparatoria nei giorni scorsi dove si salvò miracolosamente quel 38enne quel 38enne residente in un paese dell'entroterra intanto il paese dell'entroterra è Sant'Angelo Invado lui è un 38enne il resto del Carlino scrive anche il nome e il cognome all'inizio insomma tutto che poi ha realizzato questo 38enne di aver scampato ad un agguatto in piena regola e quindi è crollato dallo stress ed è stato ricoverato in ospedale adesso si trova a Sasso Corvaro con la pressione molto alta ieri è tornato a casa sta meglio ma la paura non è comunque passata ha retto per un giorno poi ha realizzato di essere scampato ad una esecuzione di essere vivo per miracolo per quanto riguarda invece il delitto di Mondavio oggi il primo sopralluogo nella villetta che rimane sotto sequestro quella di San Filippo sul Cesano dove martedì scorso Gino Ruggeri ha aggredito a morte la moglie Rossella Iatesta i carabinieri effettueranno ulteriori sopralluoghi proprio oggi le ricerche dell'arma dei carabinieri coordinate sul posto dal comandante della stazione di Mondavio Pasquale Castigliego saranno volte innanzitutto a cercare elementi utili a capire se si è trattato di un'aggressione premeditato oppure se si è di fronte a un delitto d'impeto intanto l'uomo è ancora piantonato all'ospedale Santa Croce di Fano sta meglio risponde insomma non è più in pericolo di vita e probabilmente tra oggi e domani verrà trasferito in un'altra struttura allora le altre notizie invece razzia di borse Vuitton nella villa di un designer ho dei miei sospetti dice il derubato i ladri rubano pure un raro servizio da te è successo in una casa nella casa di Eagle Dorato designer d'interni residente in una villa vicino a Gradara il valore della refurtiva si aggira sui 40.000 euro i malviventi si sono concentrati unicamente sulla cabina armadio allora andiamo adesso sull'ultima pagina del resto del Carlino quella di Fano e Urbino il vescovo Trasarti all'incontro annuale con i politici ha attaccato la fondazione Cassa di Risparmio di Fano pur senza mai nominarla però ha attaccato le fondazioni in generale e ovviamente chi si intende e chi legge tra le righe della politica sa benissimo quali sono i rapporti tra la diocesi e la fondazione Cassa di Risparmio di Fano non nomina mai la fondazione scrive Anna Marchetti mentre fa esplicito riferimento ai presidenti di Carifermo e Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo paese dal quale il vescovo arriva che dopo 12 anni di guida delle sue istituzioni si sono scambiati il ruolo passando dalla banca alla fondazione e viceversa il vescovo dice in un passaggio epocale bisogna muoversi accettare e vivere il cambiamento di questa notizia ovviamente si occupano anche gli altri due quotidiani il Corriere Adriatico ed il Messaggero allora sul Corriere Adriatico la pagina di Fano le fondazioni rinuncino ai privilegi il vescovo incontra i sindaci sono un potere oligarchico lontano dalla loro missione mission naturale ai primi cittadini chiede di realizzare una sussidiarietà circolare tra istituzioni imprese e popolazione emergenza abitativa 41 sfratti in 10 mesi Fano supera Pesaro tutti i dati dell'ufficio giudiziario intanto il Comune rinnova la graduatoria per le case popolari su questo argomento anche il anche il messaggero dal vescovo dal vescovo Trasarti nuovo monito alle fondazioni il presule ha incontrato sindaci amministrazioni e amministratori raccomandazioni anche ai politici poi il vedete qui il prefetto di Pesaro Urbino Attilio Visconti che lascia Pesaro ma dice il mio ricordo resterà indelebile il prefetto Visconti alla festa degli auguri prima di essere trasferito a Pisa questo infatti sarà la sua nuova destinazione poi guardate questo cagnolino torniamo alla cronaca l'hanno chiuso in questo sacchetto rosso e buttato giù in un dirupo come fosse un sacco dell'immondizia un meticcio troppo avanti con gli anni per essere forse ancora utile insomma qualcuno ha deciso di buttarlo giù per 15 metri in un dirupo che termina in un canale che poi confluisce nel fiume una barbarie davvero gratuita una cattiveria inutile a cui hanno cercato di porre rimedio i vigili del fuoco di Fano intervenuti per soccorrere la bestiole cercare di strapparla a una fine orribile orribile a Pesaro scattano le prime multe da parte dei vigili i vigili inflessibili sullo scarso decoro c'è anche un assessore al decoro c'è una persona credo che si occupa proprio di vedere di controllare che la città di Pesaro si presenti al meglio siamo vicini alle festività natalizie e dunque Pesaro ci tiene la sua immagine sono stati emessi 12 verbali per giardini incolti e acque stagnante stagnanti Belloni l'assessore presto sarà pronto un piano dell'arredo i privati comunque devono adeguarsi ancora dai quotidiani prima di chiudere la nostra segna stampa anteprima oggi alle 18.30 al cinema Astra di Pesaro per la prima visione di un documentario girato da un regista fanese Andrea Ludovichetti si intitola Missione Ruanda dell'associazione Sports Around the World il filmato è stato premiato l'8 dicembre al FIES di Milano che è il festival mondiale dedicato al cinema e alla televisione sportiva il film con la regia dei fanesi Andrea Ludovichetti e Nicola Nicoletti il direttore della fotografia è Eugenio Cinti Luciani e il fotografo pesarese Paolo Laddomada ok questa è la notizia che riguarda la pagina degli appuntamenti voglio chiudere anche con la notizia con la pagina di Senigallia dove c'è la cronaca di un giovane un giovane che si è buttato dagli scogli ed è morto annegato si tratta molto probabilmente di un suicidio anche perché la sera prima questo giovane che vedete in questa immagine in questa fototessera la sera prima aveva chiamato i parenti e gli amici in Abruzzo annunciando appunto l'intenzione di uccidersi è stato ripescato cadavere in mare questa è la cronaca di Senigallia mentre dalla pagina di Pesaro tassa di soggiorno in cassa 460 mila euro si attendono i riscontri degli eventi di dicembre ieri piazza e centro storico invasi di gente e iniziative per quanto riguarda la pagina di Fossombrone dal Corriere Adriatico Sanità di Tutti inaugurata la sede di articolo 32 mentre cresce la sfiducia verso il servizio pubblico i cittadini si organizzano in prima persona è l'ultima notizia della nostra rassegna stampa di oggi grazie per la vostra cortese attenzione vi ricordo che dal 3 gennaio questa rassegna stampa cambierà orario andrà in onda non più alle 7.45 bensì 15 minuti prima quindi andremo in onda in diretta alle 7.30 restano invariati invece gli altri orari quindi 9.10 circa e 13.30 mentre vi ricordo che è già partito il nostro concorso il secondo concorso per presepi se avete in casa un presepe ieri abbiamo visto e abbiamo capito che in tanti avete fatto il presepe proprio in questo fine settimana perché siamo stati inondati da foto e video allora continuate pure a mandarci i vostri video e le vostre foto almeno tre fotografie che ritraggono il presepe un presepe che può essere presepe piccolo presepe grande il vostro presepe il vostro presepe inviateci le vostre fotografie una di queste tre fotografie deve ritrarre voi quindi ci dovete essere voi in questa fotografia perché è importante che si veda anche chi ha realizzato quest'opera quindi inviate il tutto a presepi chiocciola fanotv.it noi ci vediamo domani mattina alle 7.45 mentre questa sera alle 20.30 c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia serena giornata a tutti arrivederci A presto A presto A presto A presto